Ciao amici, quante volte abbiamo sentito una mela al giorno toglie il medico di torno? Fin da bambini, vero? Ma perché si dice? È solo una credenza popolare? Oggi scopriamo i motivi scientifici e anche perché si può dimagrire con la dieta delle mele. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. La mela è ricca di polifenoli, potenti antiossidanti, antitumorali e antinfiammatori. I ricercatori della Fondazione Edmund Bach di San Michele dell'Adige, Trento, in collaborazione con il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, hanno pubblicato uno studio sulla rivista Food Research International. Nello studio viene dimostrato l'effetto positivo della mela sulla salute, soprattutto dell'intestino e dell'apparato digerente. Bello ma per dimagrire? La mela è detox, quindi dimagrante. L'eccesso di tossine è il primo ostacolo al dimagrimento, per questo depurarsi a volte è sufficiente per perdere i primi chili. Ecco un esempio di dieta della mela consigliato dai ricercatori che si può seguire per 2-3 giorni prima di iniziare un programma dimagrante. Come sempre consiglio di affidarsi a un esperto. Se volete dimagrire con la naturopatia ci sono i miei coaching personali, il link è in descrizione. Ora vediamo la dieta della mela per dimagrire. Si basa sul potere saziante, drenante e detox delle mele che abbassano il colesterolo, riattivano il metabolismo e combattono l'effetto yo-yo. Giorno 1, 4-5 kg di mele a seconda della costituzione e dell'appetito. Idratarsi bevendo almeno 2 litri e mezzo di acqua e muoversi in modo leggero. Giorno 2, aggiungere una o due confezioni di yogurt bianco magro, meglio se di soia. Giorno 3, aggiungere verdure crude e altri tipi di frutta, ma sempre di un solo tipo per volta per evitare gonfiore e fermentazione. Completati 3 giorni si può mantenere un giorno alla settimana a base di mele per avere i benefici detox di questo frutto più a lungo. Per vedere tanti altri video come questo iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e dimagrisci! Vuoi approfondire questi argomenti e incontrarmi di persona? Partecipa agli eventi, vacanze e soggiorni di benessere che organizzo in tutta Italia. Prenota un coaching di naturopatia personalizzato con me e ottieni il massimo per il tuo benessere. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale e sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Ogni giorno sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente! Ciao!